Una lite furibonda tra un uomo e una donna scoppiata per futili motivi e che si è conclusa con un arresto ed una denuncia. È successo ieri sera a Campo di Marte, una delle zone più calde della città. I carabinieri sono intervenuti sul posto per sedare gli animi ed evitare che qualcuno potesse farsi male. Addosso all'uomo un trentenne nigeriano però hanno trovato 11 dosi di hashish ed una di eroina pronte per essere cedute. L'uomo, con precedenti alle spalle sempre legati al mondo della droga, è stato così portato in caserma ed arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, anche lei pregiudicata, è invece risultata destinataria di un foglio di via obbligatorio dal territorio del comune di Arezzo ed è stata così denunciata a piede libero per questa violazione.